Ciao a tutti ragazzi eeeh benvenuti in questo nuovo video e anche a te papà vi voglio dire soltanto avete presente il canale dove hanno creato number blocks big 9 avete presente lì? beh lui mi ricordo un video bello stavo facendo stavo facendo una cosa dopo dopo non trovo più cioè mi rendete conto mo lo vado a denunciare li vado a casa sua prendo il mio telecomando che sta di là la mia televisione e l'ho impresso in bronte così il number blocks pink verso 10 lo farò io in realtà no non lo farà nessuno perché non uscirà a me scusate scusate ragazzi allora voglio dire che sto qua dovevo trovare un video per fare un disegno per fare un disegno sul computer non trovo lì che mi rendete conto ma in realtà non prendo il telecomando prendo una pallina con un coso con un coso che si lancia ve la devo prendere in bocca ve la faccio rifare così forte che anche la devo ingogliare così soffoca e non il block speak a 6.10 non uscirà più c'è un video che deve arrivare a 2 minuti a